Buongiorno a tutti e ben ritrovati! Andiamo a vedere un primo esercizio molto molto semplice, quindi solo applicazione delle formule, del JFET Assurge Comune. Quindi, abbiamo visto ieri la teoria, vediamo come applicare queste formule. Allora, abbiamo come parametri la transconduttanza 3 mA fratto volt, RD 150K, le resistenze di polarizzazione. Molto spesso nel JFET viene già dato il parallelo R1 e R2, quindi che è in genere dell'ordine di 1 MHz, quindi vedo che anche nei libri e altro si dà spesso il discorso direttamente del parallelo e in effetti io nei miei esercizi ho sempre già considerato il parallelo. È poco significativo perché comunque quella è la resistenza d'ingresso e quindi... e RD 20K, RS 15K, RL 12K. Vogliamo calcolare l'amplificazione di tensione e le resistenze di ingresso e uscita. Bene, come fare? Lo vediamo tra un attimo. Bene, per prima cosa andiamo a calcolare la tensione di uscita. Allora, tensione di uscita sarà uguale al parallelo di tutte queste tre resistenze, quindi parallelo di RD, RD grande, RL per la corrente che le attraversa, che è la corrente proveniente da questo generatore dipendente, quindi fa questo giro, quindi essendo concorde ho bisogno di mettere il meno davanti e quindi poi scriverò appunto GFS VGS. Per quanto riguarda la WI, ricordiamo che si trascura la resistenza interna del generatore di segnale e la WI si tiene conto che esca direttamente, arrivi direttamente sul gate, quindi sarà pari alla WGS. A questo punto la nostra A-W che è pari a VO fratto VI quindi tensione di uscita fratto tensione di ingresso 8VI sarà uguale meno allora, scriviamola per bene così così fratto VGS da VI che è VGS quindi VGS questo valore si semplifica andiamo a sostituire allora intanto andiamo a fare possiamo andare a fare separatamente prima come primo passaggio se vogliamo questo parallelo di tutte quante quindi abbiamo da fare allora 150K parallelo a 20K parallelo a 12K quindi sarà più piccola di 12 sarà immagino sarà tipo 10 allora proviamo a farlo un attimino allora 150 diviso 7 quindi 7K circa 7 K DOM quindi in genere si o si trascura RD quella interna dinamica perché è comunque molto più alta delle altre e anzi quindi prenderemo poi come come parallelo questo e sbagliamo di poco perché il parallelo di questo sono i 7,5 questo è 7 quindi ok e quindi qua avremo meno allora 7K per 3 milliampere ma facciamo 3 milli così rimane e poi ovviamente non c'è più neanche il denominatore quindi in realtà possiamo fare così quindi sarà 7 per 3 21 poi K e milli si semplificano e quindi sarà meno 21 poi andiamo a vedere il valore la rin quindi la rin sappiamo che è r1 parallelo r2 quindi qua l'abbiamo già e quindi ci rimane il nostro omega e la rout è quella che abbiamo calcolato qua quindi sarà il parallelo di esclusa la r ovviamente la rl quindi sarà rd parallelo rd e quindi sarà 150k parallelo con 20k vediamo quanto viene 150 per 20 diviso 170 17,6 quindi facciamola così 17,6 chilome bene vedete che è molto semplice basta applicare le formule e il tutto è fatto bene con questo questo primo esercizio è finito vedete che come si diceva nella teoria l'amplificazione poi rimane piuttosto bassa perché GFS è sempre un valore piuttosto bassino ci vediamo domani per un altro esercizio